Siamo arrivati quindi alla fine dell'estate, ringraziamo tutti per aver collaborato con questo nostro piccolo appuntamento che ha permesso di divulgare i principi fondamentali della cultura nautica e soprattutto della prudenza. Il lavoro della Guardia Costiera ha avuto il suo culmine durante l'estate, i nostri mezzi sono stati costantemente impiegati ma naturalmente continueremo anche nel corso dell'inverno a garantire a tutti la sicurezza della navigazione. Confidiamo anche che tutti continuino a far tesoro di quei consigli che sono stati dati nel corso dei precedenti appuntamenti televisivi e se li rimentino anche per chi fa attività in inverno e soprattutto per l'estate prossima, al fine sempre di godersi il mare in sicurezza ed in serenità senza dover poi ricorrere all'intervento di chi comunque è destinato a garantire la sicurezza della navigazione. Grazie per tutto quello che avete fatto e ci rivediamo possibilmente l'anno prossimo.